Cari amici di Calabria Wild, oggi vi presento l'ultimo acquisto che ho fatto che ho ritenuto condividere con gli amici delle pagine e dei vari gruppi che lo vorranno condividere. Ovviamente le informazioni riportate non sono da parte di un medico ma da parte di un appassionato, non un guru, ci tengo a dirlo. Si chiama pulsossimetro o saturimetro ed è molto importante proprio per l'apnea in quanto misura l'emoglobina attraverso un sensore che spara degli infrarossi, appunto misura il colore del sangue. Se è più chiaro c'è tanto emoglobina e quindi avremo un sangue più chiaro, se è più scuro ce n'è poco e quindi avremo una scarsa ossigenazione. E ovviamente questo è legato alla capacità respiratoria che ognuno di noi possiede. Niente, vabbè, è semplicissimo da utilizzare. Ci darà un valore che sarà ottimale tra 97 e 99. Inferiore a questi valori, diciamo, sarà normale fino ai 92. Sotto ai 92 ci sono dei gravi deficit respiratori. Non ottimale, quindi tra i 92 e i 97 possono essere dei piccoli problemi respiratori dovuti principalmente al fumo. Ecco perché è importante, amici, non fumare. Allora, come funziona? Si accende, dice finger out, quindi inserire il dito, deve stare più vicino possibile al cuore. In pochissimi secondi ci darà il valore. Quello è, ecco qui, 99. Quindi, diciamo, ho un valore ottimale della SpO2, quindi della saturazione periferica di ossigeno. Vabbè, dall'altro lato indica la frequenza cardiaca, che in questo caso lo sto parlando, insomma, e quindi risulta variata. E niente, spero che, insomma, vi sia piaciuto questo video. Poi, vabbè, eventualmente, devo capire se si possono scaricare direttamente sul PC i valori per fare, insomma, dei grafici. Devo capire anche l'utilizzo durante gli allenamenti, quindi sarebbe carino fare una cosa del genere. Niente, poi lo togli, dice finger out, quindi non c'è il dito e si spegne automaticamente. Ah, l'importante è che non ci sia molta luce all'interno della stanza e bisogna pulire le dita e le superfici di plastica intorno con un po' di alcol e cotone. Non bisogna avere le mani fredde, quindi, insomma, deve essere in condizioni normali. Spero vi sia piaciuto e vi saluto.